ciao ragazzi oggi sono a entrobbio e sono a vedere le due cascate molto belle questa che vedete è quella dello sprizzotollo molto bella e dopo andrò a vedere quella della trogia che si trova laggiù dietro al paese sono arrivato alla seconda cascata di troggio si chiama la cascata della troggia molto bella molto bianca e esce fuori da un buco dall'alto della montagna formando un laghetto alla prossima venite a vederla che è uno spettacolo vi saluto ragazzi ciao alla prossima grazie